Matteo Volevi, campionato del mondo a Milano 2015, campionato d'Europa in carica a Brandeburgo 2017, ospite al CSB New Games in Casselvetrano. Che sensazioni è giocare, scambiare un paio di staccate qui in Sicilia? Abbiamo visto tanto affetto, è la prima celebra che sei qui. Cosa ti aspettavi e se le tue aspettative sono state realizzate? Un po' mi aspettavo questo, una bella accoglienza, direi che è stata ancora di più rispetto a ciò che mi aspettavo sicuramente. Sono contento di essere qua e passare un po' di tempo a condividere un po' di gioco. È chiaro che sei qui da poche ore, però hai visto che un po' di talento magari grezzo, però la Sicilia, la puglia artistica... Certo, non solo grezzo, ci sono anche tanti giocatori affermati, forti e penso una regione che ha un livello di gioco alto. Sì, come la tua Toscana, come il Timonte, la Puglia, le quattro regioni forse più attrezzate d'Italia. Campania. La Campania, certo. Che sensazioni hai per la tua annata sportiva? Si è riducito da uno vittore in una gara nazionale importantissima. Insomma, sta andando molto bene. Sì, sì. Ero partito così e così e invece poi ho annellato una bella serie di gare e sono contento. Meglio di così direi che era difficilmente preventivabile anche. Quindi niente, contento, cerco di proseguire e spero di proseguire così. Ti auguriamo il meglio e speriamo di averti ospede di nuovo qui in Sicilia frequentemente. Grazie. Sicuramente, è un piacere. Grazie.